Non se ne falla neanche! E molla il mio arco! Oh, povera bimba, che t'ha fatto? Non vuole giocare con me! Sergio! Gioca un po' con la tua sorellina! Tieni, ti ho preparato i tortellini. Ho cucinato tutto il pomeriggio. Grazie. Non mangi? Non ho fame. Sai, il nostro bambino oggi ha fatto i capricci. Non voleva mangiare le pappe. No, davvero?